Buona serata organizzata da voi, cosa ci proponete stasera? Questa sera artisti di strada abbiamo quattro postazioni fisse, una in Corsa Italia, due in Piazza Libertà e una in Via Mazzini, il trampogliere che va per tutte le vie del centro e sorpresa che non avevamo pubblicato da nessuna parte, ci sarà lo spettacolo di chiusura con tanto fuoco e tante fiamme per scaldare un po' gli animi. Problemi di sicurezza qua non ce n'è naturalmente? No, problemi di sicurezza non ne abbiamo, sono tutti artisti che arrivano proprio da scuole circensi, tutti in regola, tutti a norma, noi i nostri eventi sono sempre presentati con SCIA, al SUA per tutti i belli regolari, per cui abbiamo tutte quelle che sono le normative a posto, la sicurezza a posto, sia l'altro venerdì che questo venerdì c'è il servizio di polizia locale, molti attivi in loco proprio per fare i controlli, per cui siamo a posto direi. Sì, abbiamo visto l'opera qua dietro perché la gente è sregolata, però qui a differenza, noi siamo stati anche a Torino e qui vedo che sono parecchie vie di fuga, per cui non c'è la cacca che c'è la Torino, quindi dovremmo stare tranquilli, allevete qualche zanzare, avete pensato ad ammazzare un po' di zanzare? Ma questa sera no, devo dire che non c'è zanzare, c'è uno strano attacco di moscerini questa sera, però adesso moltimente sta arrivando un po' di vento, mi sembra che si stanno scemando, come si vuol dire. Voi avete superato tutte le diatribe politiche, la gente apprezza quello che fate, l'importante è questo. Noi siamo felici, noi siamo felici per quello che è successo, abbiamo sempre provato, anche se si parla di diatribe politiche, quelle che sono stati gli ombrelli, quelle che sono state le vie, quelle che sono stati gli eventi. E dopo gli ombrelli proponete gli occhiali? Ma sì, allora quest'anno in tutte le serate, per promuovere il nostro valore in comune, la nostra Fidelity Card, regaliamo a chi si presenta con la Vic o chi la stipula gratuitamente durante gli eventi, omaggiamo gli occhiali. Venerdì scorso abbiamo omaggiato quelli con la chitarra perché c'è la serata Buscadero, questa sera la serata degli artisti, ci sono gli artisti sugli occhiali e via via così. Il prossimo weekend, il prossimo venerdì è la serata per i bambini, per i bambini abbiamo pensato di fare i braccialetti colorati come l'anno scorso, i braccialetti fluo che hanno tanto funzionato l'anno scorso. Grazie. 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 Grazie.